Il tentativo di riportare i valori in una politica frantumata solo da questioni di calcolo e lotte di potere la mette così l'ex ministro Gianni Fontana, oggi segretario nazionale della democrazia cristiana intervenuto a Termoli per il coordinamento locale dove ha ribadito la partecipazione del partito e dello storico simbolo a tutti gli appuntamenti elettorali. Un partito di centro ha spiegato Fontana inteso come capacità di fare sintesi di interessi e di valori perseguendo sempre più l'obiettivo del Partito Popolare Europeo posizione che si lega anche all'eventuale candidatura di Mario Monti alla guida di un governo non più tecnico ma politico. Sia per la sua posizione di prestigio che ricopre a livello europeo e a livello internazionale sia anche per la pazienza e la capacità che ha avuto. Tuttavia la nostra presenza eventuale in una formazione ispirata da lui o addirittura diretta da lui questo si vedrà è condizionata anche ad un cambio di registro della sua agenda ad un cambio di registro che veda accanto al rigore anche l'equità sociale e la crescita. Fontana ha incontrato iscritti e simpatizzanti per dare impulso all'impegno del partito non si è espresso sulle candidature a livello regionale confidando sulle decisioni che prenderà il direttivo molisano guidato da Antonio Di Rocco. Credo che si formerà alla fine un cartello del centrodestra dove noi ritorniamo di essere di avere la collocazione più naturale e poi vedremo chi sarà il candidato. Oggi c'è il candidato uscente Michele Iori che si ripropone candidato però non è ancora diciamo definitivamente ufficializzato sia dal partito suo che dalla collezione stessa.